200 metri all'arrivo, è lanciato lo sprint, è lanciata la volata, attenzione la campionessa italiana se la fa, Martina ha in fili, Busco Carolfo, la Lombarda della provincia di Milano, Milano a me che si impara a piago, vince, bella rimonta nel finale, prima la numero uno, Martina Alcini, Busco Carolfo.